Musica Avete l'opportunità e la fortuna di vedermi a cavallo, tra virgolette, sulla medesima vettura che io ebbi l'opportunità di vincere la Targa Florio, il Mondiale Marche nel 1975. Questa macchina è tutta originale. Allora il motorismo sportivo era la base dell'evoluzione delle macchine di serie. Queste esperienze che facevano le case con i piloti portavano all'utente stradale soluzioni all'avanguardia con l'avvento della tecnologia, dell'elettronica, che aveva dei test in laboratorio, adesso hanno un vantaggio enorme. Musica Musica Di venire pilota ufficiale di una casa come l'Alfa Romeo, che credo dal primo novecento in poi abbia insegnato al mondo intero a costruire le automobili. È stata all'avanguardia, si può dire, su tutto, compreso l'utilizzo di materiali particolari, l'utilizzo di una specie di galleria del vento. È una pietra migliare nel mondo del motosport e del mezzo meccanico inteso come automobili nel mondo. Musica Essere un pilota ufficiale dell'Alfa Romeo, lo sono stato per cinque anni, è un fiore rocchiello. Musica 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 Musica